La famiglia è una famiglia molto severa, molto osservante di alcune regole, un'altra più liberale, più tranquilla, più democratica, con delle tendenze anche new age. No, diciamo che le famiglie sono varie e che il tema del racconto del film è un po' quello per cui tu puoi essere un po' come vuoi, puoi cercare di impartire la lezione che vuoi, però bene o male poi i figli rispondono sempre come credono. Cioè quello che è stato vero per te come figlio non è quasi mai vero per tuo figlio. Io mi auguro di no per il mio compagno, altrimenti nel senso che credo che la caratteristica principale del suo personaggio sia la pazienza, perché con una come Valeria non si può che dover avere un po' di pazienza perché è estremamente sensibile e quindi molto facile all'emotività, all'emozione, al nervo. Quindi insomma non è facile maneggiare una così che fa un po' fatica a rinunciare al ruolo di figlia, ecco, invece che riuscire ad essere completamente madre. Che credo sia un po' questo a volte, no? Il senso del come fai sbagli e sbagli forse nel momento in cui non riesci a non proiettare sui figli il tuo essere figlio e quindi tutte le recriminazioni, il farò meglio di mia madre o di mio padre, quindi questa cosa un po' ti porta ovviamente inevitabilmente all'errore. Beh, la famiglia è di fatto il nucleo della società, anche se cerchiamo di dimenticarcelo un po' spesso. Forse c'è un bisogno di ritornare a ridarle un valore e cercare di darglielo nella sua chiave più moderna. Oramai le famiglie sono un contenitore vario e quindi c'è bisogno, visto che appunto l'arte rappresenta la realtà, c'è bisogno di raccontare la realtà così com'è, non più soltanto appunto la famiglia tradizionale, ma tutte le sue sfaccettature, trovo che sia giusto comunque. Sì, direi che questa fiction più di altre che hanno come nucleo centrale la famiglia sia emblematico, perché la nostra fiction non ha soltanto come nucleo centrale la famiglia, ma ha proprio l'educazione dei figli, per cui io direi che forse è la prima che in questo senso analizza un po' di più quello che è il rapporto genitore-figlio, per cui il tema dell'educazione. In questo senso è nuova anche su uno sfondo di famiglie già largamente viste, però ecco ci occupiamo proprio in modo specifico di come trasmettere qualche cosa ai figli. Grazie.